Tocca anche la gamba sinistra Monica Vangari sta davvero raschiando sul barile Isaac Kiplagat si gira a controllare, gli impone, gli passa anche l'acqua cerca di dargli ogni conforto, cerca di dare, di dirle qualsiasi cosa per spingerla verso il traguardo ma questi ultimi chilometri sono davvero interminabili per lei il finish line, for the Kenya Monica Vagari, Cagnata Bravo 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 That's Chris Marlinson